La strada giusta Il Benevento nelle ultime cinque gare ha subito solo tre gol e in casa ha pareggiato con Juve e Lazio. Come creare difficoltà alla squadra di Pippo Inzaghi? Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra intensità e sulla nostra voglia di fare e questo dovremo mettere in campo. Destro, Pandev, Piazza, Scamacca e Shomurodov. Ognuno con le proprie caratteristiche ma tutti hanno già dimostrato di saper giocare insieme. Quest'ampia scelta in attacco può essere un valore aggiunto? Sì, finalmente ho la possibilità di scegliere e di averli poi a disposizione anche nell'arco della partita. Poi andiamo a vedere quando sono state a disposizione hanno sempre giocato quasi tutti. Per cui nel momento in cui stanno bene e poter contare proprio nella partita su tutti quanti è un valore in assoluto. Come anticipato, Pandev è rientrato in gruppo e così anche Zappacosta. Sono disponibili per la partita? Sono disponibili per quanto riguarda Zappacosta sicuramente con un minutaggio ridotto perché rientra dopo tanto tempo. Però insomma rientra in gruppo, ha lavorato con la squadra e questo è una buona notizia. Grazie mister.